Dopo la gravidanza il numero di capelli bianchi era decisamente aumentato. Volevo un colore particolare, avevo paura di rovinare i miei capelli ricci. Ora che ho scoperto Olia, i miei capelli sembrano più sani. La copertura è perfetta, i capelli sono luminosi. Con il 60% di oli senza ammoniaca. Olia da Garnier, naturalmente. Prova il tuo colore online su garnier.it